Anche alcune scuole del Lazio partecipano al progetto Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza, i particolari da Stefania Giacomini. Per una diffusione della cultura della sicurezza tra i giovani e i giovanissimi, qualcosa si sta muovendo. Presentato il progetto Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza, nato da una carta di intenti tra MIUR, Ministero del Lavoro, Politiche Sociali e INAIL. Concentrare in un unico cornice tutte le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza nel mondo delle scuole. La finalità è quella di diffondere in modo preventivo la cultura della sicurezza a partire dalla scuola primaria, affinché il fenomeno delle morti bianche possa trovare un'adeguata risposta in termini di prevenzione e non di sanzione successiva. INAIL investe risorse ingenti in salute e sicurezza, risorse per favorire presso le imprese investimenti in salute e sicurezza. Ricordo che sono stati appena stanziati 205 milioni a questo riguardo per stimolare questi investimenti. Investe anche in politiche di promozione all'interno della scuola. Stanziati 5 milioni di euro per 48 progetti presentati da reti e consorsi di scuole di ogni grado in Italia. Nel Lazio previsti 860 mila euro per 7 progetti presentati da un istituto scolastico di Bagno Reggio e nella capitale da altri 6.